Ma ospitiamo con grande piacere anche quest'anno, la seconda volta che ospitiamo Innovation Village, c'è un grande fermento, c'è una grande effervescenza, ci sono molti giovani che frequentano questa iniziativa e è un segnale molto importante per la città e per l'ecosistema delle start-up e della creazione di imprese che in Campania ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, anche se poi il tessuto imprenditoriale, il tessuto industriale probabilmente non è in grado di assorbire tanta vitalità. L'Università Partente, in quanto ente ospitante, ha una serie di iniziative che mette qui in mostra in termini di spin-off, di progetti. Come delegato alla terza missione stiamo facendo un grosso lavoro per sviluppare i processi di trasferimento tecnologico. Oggi abbiamo anche molti studenti che sono venuti a osservare, a comprendere, a capire, a discutere, a proporsi con le imprese già costituite e questo penso che sia un buon viatico per offrire un processo di sviluppo delle relazioni tra l'Università e l'Impresa. Grazie a tutti.